Asia Nuccetelli rifatta, a Domenica Live tutta la verità . Domenica Live, Asia Nuccetelli si svela sulla trasformazione fisica, ecco cosa si è rifatta la figlia di Antonella Mosetti. Asia Nuccetelli è stata poco fa al centro di una rovente intervista a Domenica Live. La figlia di Antonella Mosetti, invitata nel corso di un dibattito con altri ospiti dedicato alla chirurgia estetica, si è finalmente svelata sulla questione Ritocchini. Come sapete, negli ultimi tempi la giovane è stata protagonista di numerosi attacchi social, per via del suo nuovo aspetto. Dopo essere uscita dalla casa del primo grande fratello Deep, l'ex Befina si è completamente trasformata, anche facendo ricorso al bisturi. . È stata lei stessa ad ammetterlo, affermando però che tutti i ritocchi che le vengono imputati non corrispondono al vero. Asia non è di plastica, ha solo migliorato qualcosa di sé al fine di stare bene, ma non si è rifatta da capo a pieni. . Barbara D'Urso, la padrona di casa dello show, l'ha ripetutamente difesa ma il TOC a un certo punto si è infuocato, persino il professor Lorenzetti ha criticato la ventenne. Ecco tutti i dettagli. . Asia Nuccetelli parla dei ritocchini a Domenica Live, la verità dell'ex Befina. Nel corso di un acceso dibattito dedicato alla chirurgia estetica a Domenica Live, la Nuccetelli ha svelato gli interventi a cui si è sottoposta. . La figlia di Antonella Mosetti, che ultimamente fa discutere molto i social per il nuovo aspetto, ha rifatto il naso e le labbra e lo rivendica. . Nega di aver toccato gli zigomi, così come di aver agito chirurgicamente sull'altre parti del suo corpo. Per quanto riguarda i denti, ha solo messo un apparecchietto per circa un anno, nulla di più. . Il cambiamento di cui si è resa protagonista, a suo avviso, è frutto principalmente della dieta a cui si è sottoposta, è dimagrita moltissimo, e del nuovo colore di capelli che adesso sfoggia, un accesissimo biondo. Carina il professor Lorenzetti a Domenica Live, acceso scambio di vedute con la Nuccetelli. . La sempre in forma Carina Cascella, ospite in studio, ha attaccato Asia sulla questione Ritocchini. L'opinionista si è detta dispiaciuta che una ragazza così giovane sia ricorsa alla chirurgia in maniera tanto evidente. . Cambiare i connotati a 20 anni come hai fatto tu non è normale, ha chiusato. Dello stesso avviso il chirurgo plastico Pietro Lorenzetti, che è spesso ospite della D'Urso. . Sul labbro superiore e sugli zigomi ha esagerato, sono sproporzionati, ha affermato nel salotto domenicale di Canale 5. . 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